La partita dell'andata con Treviglio ci ha insegnato tecnicamente e tatticamente tante cose. Fu una partita dove non abbiamo fatto canestro ma non siamo riusciti ad interpretare una pallacanestro diversa. Non siamo riusciti a trovare il ritmo della gara. Lo si poteva fare e lo stiamo facendo partendo dalla nostra difesa e quindi siamo sicuramente diversi rispetto a quella partita però sono anche abbastanza curioso di vedere contro la stessa squadra che ci mise molto in difficoltà all'andata, come siamo cresciuti e come riusciremo a giocare contro un roster completo, un roster che sta facendo molto bene, una squadra che ha sempre quattro giocatori sul perimetro che possono fare canestro da tre punti, che ha molti centimetri soprattutto con l'ultimo inserimento di un giocatore molto importante come Ancellotti e quindi sono curioso di vedere la partita, di vedere come riusciremo ad approcciarla, come riusciremo a giocare contro, ripeto, una squadra che ci mise in difficoltà ma noi sappiamo benissimo che siamo diversi rispetto alla partita dell'andata.